Benvenuti all'edizione della notte del Tg di Telemolisi. Apriamo con la politica che ho le prossime amministrative di giugno. C'è stato ieri sera un vertice del centrodestra a Campobasso proprio in vista delle elezioni. I rappresentanti dei partiti della coalizione si sono incontrati per definire gli ultimi passaggi che porteranno alla candidatura unitaria del centrodestra per i due principali comuni al voto, cioè Campobasso e Termoli. Al vertice il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Filoteo Di Sandro, ha avanzato il nome del presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante. Il vertice è stato poi aggiornato a lunedì prossimo. Tutti i dettagli con Pasquale Di Bello. Vertice interlocutorio del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Sul tavolo le due principali città che andranno al voto, Campobasso e Termoli. Il lavoro è a buon punto, dice il senatore Claudio Lotito, coordinatore regionale di Forza Italia, che si sofferma anche sul voto per le europee. Coincido con le europee, quindi c'è un po' tutto l'assetto politico diciamo di giugno, così detto. Abbiamo sicuramente affrontato il tema con le rappresentanze in relazione a quelle che sono le possibilità effettive di avere la migliore rappresentanza e ottenere il miglior risultato politico nelle due città, nel capologo chiaramente di regione Campobasso e a Termoli. Noi abbiamo delle idee per poter ottenere il risultato migliore. Ogni partito sicuramente ha in testa il candidato che lo rappresenta, il partito a cui appartiene. Io penso che ci sono le condizioni per trovare il miglior candidato che possa trovare il consenso degli elettori. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Filoteo Di Sandro, ha ufficializzato al vertice la candidatura di Quintino Pallante. Il presidente del Consiglio regionale, dal canto suo, deve ancora sciogliere la riserva. Il tempo passa, c'è la necessità di andare a individuare il candidato sindaco, c'è la necessità di stilare un programma fatto bene, con dei punti salienti da portare avanti per la città, soprattutto per la città di Campobasso. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo proposto una linea, abbiamo proposto un nome e ci siamo aggiornati all'Unitivo. Anche il commissario regionale della Lega, Michele Marone, ha sottolineato lo spirito di squadra del centrodestra. È stata una riunione interlocutoria, siamo entrati anche in alcuni particolari, soprattutto per quanto riguarda la competizione delle amministrative, che interesserà maggiormente il nostro capoluogo di regione, Campobasso, e la città di Termoli. Per cui ci siamo aggiornati a breve, a lunedì sera, se non vado errato, per cui dobbiamo stringere i tempi per unirci attorno a candidati condivisi e iniziare a chiudere le liste. Saremo presenti con la nostra lista sia a Campobasso che a Termoli, ha detto il segretario regionale dell'Udc, Teresio Di Pietro. Rispetto alle elezioni amministrative voglio succombrare il campo. Noi credo, faremo di tutto per essere presenti con una nostra lista sia su Campobasso che su Termoli. Per quanto riguarda Campobasso ci sono dei nomi che ormai circolano da un po', però oggi abbiamo fatto un discorso di carattere generale e nessuno poteva pensare che dopo di mezz'ora ci uscissimo già col nome del candidato. I rappresentanti dei partiti torneranno a riunirsi lunedì prossimo e in quella circostanza sarà presente anche Vincenzo Niro, leader dei Popolari per l'Italia. La bozza dell'intesa tra Governo e Regione Molise che sarà firmata lunedì mattina al Teatro Savoia di Campobasso dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Francesco Roberti è stata approvata oggi dalla Giunta regionale con un'apposita delibera. I 445 milioni di euro stanziati saranno utilizzati per un centinaio di progetti in dieci diversi settori. I dettagli nel nostro servizio. Investimenti sul territorio molisano per quasi 445 milioni di euro, fondi che serviranno per realizzare un centinaio di progetti in dieci diversi settori. Sono questi gli elementi chiave dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise che lunedì mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Francesco Roberti firmeranno al Teatro Savoia di Campobasso. La bozza dell'intesa è stata approvata in queste ore dalla Giunta regionale con un'apposita delibera. Con l'accordo e scritto nel documento suddiviso in nove punti, le parti si impegnano a sostenere un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Molise finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio. La maggior parte dei fondi, oltre 155 milioni, andrà al settore trasporti e mobilità. Segue poi la competitività delle imprese con 76 milioni. 58 milioni e mezzo andranno alla riqualificazione urbana, 40,7% all'ambiente e alle risorse naturali, 35,6 milioni alla cultura, 17,4% all'energia, 16,8 milioni alla capacità amministrativa, 11,6% alla ricerca e all'innovazione. Ci sono infine il sociale e la salute con 9 milioni e la digitalizzazione con 5 milioni. E adesso siamo alla cronaca. C'è in primo piano ancora la sentenza arrivata ieri da Frosinone per l'omicidio di Romina De Cesare. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni del verdetto a cui condanna a 24 anni Pietro Gialongo. Intanto dalla requisitoria del PM spuntano in retroscena di un rapporto ormai malato basato sulla gelosia di lui e un contenzioso economico aperto che non permetteva alla giovane di Cerro di lasciare la casa in cui abitava insieme al suo assassino. I dettagli da Davide Gambardella. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni. Intanto, dopo la condanna in primo grado di Pietro Gialongo a 24 anni di carcere, emerge una storia agghiacciante che tratteggia in pieno il profilo di un amore malato, sfociato poi nel femminicidio di Romina De Cesare. L'ampia e lucida confessione sull'uccisione della giovane di 36 anni di Cerro a Volturno, la notte tra il 2 e il 3 maggio del 2022, illustrata nella requisitoria del PM Vittorio Misiti, racconta di una gelosia morbosa, ma anche di un contenzioso economico tra i due che non permetteva alla povera Romina di spiccare il volo e lasciare una volta per sempre la casa in cui coabitava con Pietro. La giovane si trovava così intrappolata in una gabbia insieme a quello che sarà poi il suo assassino. Il racconto in aula è raccapricciante, ma Mario, il papà di Romina, e suo fratello, cercano di non tradire emozioni. Quando viene poi pronunciata la sentenza scoppiano in abbracci, ma non vogliono commentare. No, no, grazie, no. In via del plebiscito a Frosinone i due continuavano a vivere nonostante la loro storia fosse finita. Era il 20 febbraio del 2022, quando Romina volle chiudere la relazione con Pietro. Mesi, fino a quello di maggio, in cui nel quarantenne covava vendetta, perché Romina non era più sua. Le nuove amicizie con i suoi colleghi, poi la frequentazione appena nata con un ragazzo nuovo. Sarebbe stata quella a far scattare la scintilla omicida in Gialongo. Romina tornava a vivere, sorridere e a concedersi qualche sirena allegria con i suoi nuovi amici. Gialongo, invece, continuava ad importunarla al telefono, talvolta la pedinava e la minacciava con parole irripetibili, comportamenti che la giovane di Cerro aveva raccontato alla sua zia francese, di quel rapporto ormai incrinato che non le permetteva di uscire la sera senza sentirsi seguita, osservata, giudicata. Ma non è tutto, perché oltre alla gelosia sfissiante c'era anche una questione economica ancora aperta, perché Romina e Pietro accesero insieme un prestito e lui glielo rinfacciava ad ogni occasione. Anche nel racconto di quelle che sono state le ore dopo l'omicidio di Romina c'è una ricostruzione che fa caponare la pelle. Dopo i 14 fendenti inferti con un coltello a serramanico che la ragazza gli aveva regalato durante un viaggio a Parigi, Pietro Ialongo monta sulla sua Audi A4 e scappa in direzione Sabaudia, dove sarà ritrovato nudo a pochi metri dalla spiaggia. Forse voleva farla finita, ma la parte civile composta dagli avvocati Danilo Leva e Fiore di Ciuccio spinge affinché si faccia luce su quelle ore. Per loro il quarantenne non avrebbe mai mostrato segni di pentimento e la dimostrazione sarebbe anche nelle ore che intercorrono dal fermo alla confessione, una volta inchiodato alle sue responsabilità. E in queste ore c'è un'altra vicenda di cronaca di cui si parla, è la denuncia di una giovane donna di gamba tesa che denuncia di aver subito un tentativo di stupro da un vicino di casa. Indagano i carabinieri i dettagli da Giovanni Di Tota. Sono stati momenti terribili nei quali ho temuto il peggio. La chiamiamo Ilaria per tutelare la sua identità, la donna che a gamba tesa ha subito prima un'aggressione, poi un tentativo di stupro. Tempo fa, ha raccontato a Telemolise, aveva denunciato alcune persone perché la importunavano seguendola e molestandola. Una denuncia per stalking che non era stata presa bene dai suoi vicini di casa. A più riprese le avevano chiesto di ritirarla fino all'ultimo episodio accaduto tre giorni fa. Stavo tornando a casa dopo aver comprato il pane, ha riferito Ilaria ai carabinieri della locale stazione, quando un uomo mi ha afferrato per il cappuccio del mio giubbotto e mi ha trascinato in casa sua, chiudendo poi la porta a chiave dietro di sé. Prima, sempre secondo il racconto di Ilaria, il cinquantenne le ha puntato un coltello alla gola, chiedendole di ritirare quelle denunce. Poi, quando la donna ha tentato di divincolarsi e scappare, le ha strappato alcuni vestiti di dosso e ha tentato di violentarla. Le urla di Ilaria hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere e della vigilessa del paese, forse avvisati anche da qualche vicino, che sono riusciti ad entrare nell'appartamento, ponendo così fine al suo incubo. Ero sotto shock, ha detto alla nostra redazione con voce ferma, ma sapevo già quello che dovevo fare. Prima è stata visitata al pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato aperto il codice rosa, poi ha raccontato tutto ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini, senza tralasciare nulla. Del caso si sta occupando anche il centro antiviolenza di Campobasso e in procura è stato aperto un fascicolo. Un uomo di 41 anni di San Giovanni Rotondo è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata. I militari lo hanno identificato grazie ai firmati delle telecamere di videosorveglianza. Il 2 febbraio scorso era entrato in una profumeria di termoli fingendo di essere armato. Minacciò la commessa facendosi consegnare l'incasso giornaliero di 240 euro. Ancora alta la dispersione di acqua potabile in diverse regioni italiane. Secondo gli ultimi dati Istat, Campobasso si supera del 66%, ma è tra le migliori per quanto riguarda la qualità. Sentiamo Tonino Danese. Oggi più che mai con i cambiamenti climatici sempre più veloci, l'acqua risulta una risorsa ancora più preziosa. In diverse regioni italiane le perdite di acqua potabile sono ancora alte, con la Basilicata in cima all'ultima classifica stilata dall'Istat riferita al 2022, con una dispersione che supera il 65%. Si attendono dati più freschi, ma il trend potrebbe non essere tanto diverso. L'Emilia-Romagna è invece la più virtuosa. La media italiana è del 42,2%. Il Molise sfiora il 54%. In più di un capoluogo su tre, si legge, si registrano perdite totali in distribuzione rilevanti. Tra le città con condizioni definite di massima criticità c'è anche Campobasso, con valore del 66,4%. Un problema noto che deriva da infrastrutture da rinnovare, ma anche da fattori fisiologici si evidenzia, in quanto non esiste un sistema a perdite zero. Poi si deve fare i conti con rotture nelle condotte, errori di misura dei contatori e allacci abusivi. In occasione della giornata mondiale dell'acqua, il comune di Campobasso ha ribadito i dati in possesso, secondo i quali l'acqua della rete pubblica del capoluogo si conferma di eccellente qualità classificabile nella categoria oligominerale povera di sodio e con un basso residuo fisso. Da Palazzo San Giorgio ne promuovono l'uso quotidiano razionale come soluzione a costo quasi zero e come gesto di attenzione verso l'ambiente. Entro metà aprile partiranno gli interventi per la sistemazione della frana di Castelpizzuto, lo ha annunciato il presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia. L'intervento sul tratto della provinciale 21, interessato dallo smottamento, è stato affidato a seguito di una procedura negoziata per un importo di poco più di un milione di euro e durerà 180 giorni. Il tratto sarà percorribile, ma resterà fuori dal primo lotto di intervento la primissima parte a valle all'ingresso del paese per la quale serviranno poi altri fondi. In contrada Colle della Torre a Termoli sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia e del nido, una struttura da mille metri quadrati con aree gioco all'esterno. Sentiamo Andrea Nasillo. Mille metri quadrati di struttura, un passo storico per il quartiere Colle della Torre a Termoli. Sono iniziati i lavori di costruzione di scuola dell'infanzia e asilo nido. Quest'ultimo è stato concepito per ospitare 30 bambini, mentre la scuola materna è per 80. Numerosi gli spazi interni, aule, servizi, aree comuni. La scuola dell'infanzia con tre aule didattiche, ognuna con servizi igienici e spogliatoi. L'ingresso alla scuola sarà caratterizzato da una grande vetrata tramite la quale si accede ad uno spazio reception. Non manca una zona polivalente, è prevista la mensa con relativa cucina e servizi. Il blocco che connette la scuola materna al nido prevede una sala per la direzione e una per le riunioni degli insegnanti. L'asilo nido sarà costituito da una grande aula polivalente, completamente vetrata, che affaccia verso il mare e verso uno spazio verde attrezzato con aria e gioco all'aperto. Non mancheranno zone per il riposo dei bambini, bagni, una cucina, un ufficio per la direzione, spogliatoi dedicati al personale. Un progetto ambizioso, un'iniziativa messa in agenda dal Comune da tempo e resa possibile grazie ai fondi ottenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha stanziato per l'opera 2 milioni di euro. I lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine di maggio del 2025. Restiamo a Termoli, continua il confronto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il gruppo Stellantis con Regioni, Associazione Nazionale e Filiera Italiana Automotive e organizzazioni sindacali. Prevista una serie di incontri con il Ministro Urso, si inizia martedì 2 aprile, si parlerà della fabbrica di Melfi. Il 3 aprile le parti si concentreranno poi sullo stabilimento di Mirafiori. Presto si terrà anche l'incontro incentrato sui livelli produttivi alla fabbrica di Termoli. L'ordine pubblico come fine è il tema dell'incontro organizzato a Campobasso dalla Casa del Popolo. Al centro del dibattito il ruolo delle forze di polizia e della magistratura. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. Dopo i fatti di Pisa, Casa del Popolo si interroga sui metodi utilizzati dagli apparati di polizia e sicurezza per garantire l'ordine pubblico, un tema affrontato nel corso di un incontro che si è svolto a Campobasso. Servirebbe ragionare attentamente sul ruolo delle polizie oggi, che è un ruolo repressivo verso le marginalità e verso il dissenso sociale. Su questo bisognerebbe ragionare profondamente e non a usare le polizie per limitare il diritto di manifestare e di criminalizzare e reprimere il dissenso. La magistratura del nostro paese ha svolto una funzione di promozione dei diritti spesso negli anni 60 e negli anni 70. Negli ultimi tempi sembra che si sia, almeno ovviamente una parte della magistratura, arroccata semplicemente sulla difesa, a volte tra virgolette corporativa. Ovviamente la magistratura svolge una funzione essenziale, questo insomma non dobbiamo certo scoprirlo adesso. Un governo che ha approvato 11 norme che hanno dato da una parte seguito a nuove forme di reato tipo quello dei reparti, dall'altra hanno inasprito le pene e appunto questa critica al panpenalismo e che poi hanno la finalità quasi di in qualche modo intimorire anche forme di manifestazione. Incontro tra l'ASREM e i vertici della San Stefano, al centro del confronto, la vicenda dei bambini che non possono usufruire della prestazione di psicomotricità nel centro. Al vaglio le criticità che si sono generate, ma fa sapere l'azienda sanitaria soprattutto l'intenzione di porre rimedio ai disagi nell'esclusivo interesse dei piccoli pazienti. L'ASREM e le organizzazioni sindacali intanto hanno sottoscritto per la prima volta il contratto integrativo aziendale con il regolamento per il sistema degli incarichi di posizione e di funzione. Nell'incontro sul tavolo anche il nuovo regolamento per l'accesso alla mensa dopo sei ore di prestazione lavorativa e non dopo nove ore. La proposta di regolamento è ora al vaglio dei sindacati che presenteranno le proprie osservazioni. 136esimo anniversario delle apparizioni alla Basilica minore di Castelpetroso. Anche stamattina centinaia di pellegrini hanno raggiunto la Basilica per assistere alla Santa Messa, quest'anno celebrata da Monsignor Biagio Colaiani, nuovo arcivescovo di Campobasso Boiano. C'era per noi Barbara Fino. Era il 22 marzo 1888, un giorno di grazia per il Molise e come ogni anno viene ricordata la Basilica minore di Castelpetroso l'apparizione della Madonna addolorata che porta tra le braccia il figlio Gesù morto alle due contadine Bibiana e Serafina. Questa mattina prima di celebrare il solenne pontificale l'arcivescovo di Campobasso Boiano Monsignor Biagio Colaiani ha visitato per la prima volta il luogo dell'apparizione bevendo alla sorgente e respirando quell'aria così spirituale capace di attrarre migliaia di fedeli. 136 anni, migliaia, migliaia, posso dire milioni di persone che hanno espresso la loro fede in questo posto. Quanta storia umana è stata consegnata nelle mani del Signore, ma quanta grazia sicuramente il Signore avrà dato a tutti coloro che vengono in questo luogo e si affidano attraverso Maria al Signore. Sono centinaia i pellegrini che ogni anno raggiungono il luogo delle apparizioni per vivere una giornata di spiritualità e devozione mariana. Arrivare sul luogo dove apparve la Madonna Dolorata significa ripercorrere quel cammino di fede e attingere alla fonte miracolosa, fonte dell'amore. Molte persone che mai hanno visitato questo luogo per la prima volta in qualche modo vengono rapiti e toccati da questo luogo e anche grazie straordinarie ricevono, infatti ora pubblicheremo sul prossimo numero della nostra rivista un quasi miracolo, un ragazzo di tumore che grazie in intercessione del papà che è venuto qui per la prima volta l'anno scorso e guarito in maniera spiegabile. E queste sono le cose belle che ci invitano ad avere sempre fiducia in Dio nonostante le apparenze che sembrano dirci le cose e vadano sempre male. Un gradito ritorno alla Basilica di Castelpetroso, quello di Monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona Osimo, che ieri pomeriggio ha celebrato la Santa Messa in occasione dell'anniversario delle apparizioni. I legami con questa terra del Molise non sono stati mai interrotti, legami di amicizia, di comunione, di stima e di preghiera ed è un giorno bello per me ritornare qui proprio al santuario di Castelpetroso dove sono stato consacrato vescovo il 9 giugno del 2007, sono passati già 17 anni. Si è svolto a Fossalto un incontro tra vecchie e nuove generazioni nell'ambito dei preparativi per la festa della Pagliara Mai Mai, in programma come da tradizione il primo maggio. Gli alunni delle elementari e delle medie hanno incontrato i rappresentanti della Proloco e dell'Associazione Lancia Sannita di Monte Falcone nel Sagno che hanno spiegato le caratteristiche della tipica zampogna fossaltese. Gli alunni, guidati dall'insegnanti Aida Mastrodonato e Yolanda Di Salvo, stanno portando avanti un lavoro di ricerca e approfondimento degli elementi tipici della Pagliara, fiore all'occhiello del folclore fossaltese. Presenti all'incontro anche il sindaco del paese Saverio Nonno e il parroco Don Marco di Iorio. Il teco vorrei signore la processione del venerdì santo a Campobasso, ma anche l'inno della dolorata, lo Zucta Zù al centro dell'incontro che il saggista Giovanni Mascia ha tenuto nella sede dell'Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni nell'ambito degli incontri organizzati dall'Associazione stessa, il servizio di Tonino Danese. Un omaggio a Michele De Nigris che con le sue musiche, con il teco vorrei e l'inno alla dolorata, popolarmente chiamato Zucca Zù, cristallizza la Campobassanità. Così è esordito il saggista e studioso di storia Giovanni Mascia che nella sede dell'Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni ha tenuto una conversazione proprio sul teco vorrei, la processione del venerdì santo nel capoluogo, nell'ambito degli incontri culturali organizzati dall'Associazione stessa. Tutti quanti si riconoscono nelle opere di Michele De Nigris, di cui la grande importanza della sua figura è l'invito ai Campobassani a coltivare sempre questa figura, non solo riferita al teco vorrei, ma anche alle altre opere che fanno da humus alla processione del venerdì santo. Mi riferisco all'inno del settenario che si tiene in queste sere, per sette sere fino alla ricorrenza della addolorata nella chiesa della croce e mi riferisco alla via crucis cantata per tutta la quaresima, il periodo quaresimale, venerdì sera a Santa Maria della Croce e la domenica sera a Caterale. L'occasione per una disamina storica dei riti della settimana santa a Campobasso, del settenario e dello struggente, coro che accompagna il Cristo morto il venerdì prima della Pasqua. Se non ci sono queste funzioni liturgiche a supporto, c'è il rischio che il grande coro, la grande manifestazione del venerdì santo, venga a seccarsi nelle sue radici. Mascia infine ha presentato un documento del 1845 che nelle sue ricerche ha ritrovato e che si riferisce all'inno della addolorata o di Gerico Beata. L'inno del settenario alla Vergine addolorata è con visione comune che anche il testo sia opera del Denigris. Invece in questo documento noi verifichiamo che già nel 1845, 45 anni prima della stesura dell'opera del Denigris, questo testo è messo a stampa. E torna anche quest'anno la passione vivente di Sant'Elia a Pianisi è una delle più suggestive della regione. Decine di figuranti che domani vi proporranno le scene della passione attraversando il paese con una processione che inizierà intorno alle 20.30 dal convento di San Francesco. Giunta all'edizione numero 29, la passione di Sant'Elia è organizzata dall'associazione Crucis che anche quest'anno con il corteo partirà dal convento dopo aver attraversato il viale della via Crucis con le statue che rievocano le fermate e la passione. Il corteo si fermerà nella zona allestita per rievocare l'ultima cena nei pressi della Fontana della Pace. Quindi si snoderà per i punti del paese allestiti per rievocare l'orto dei Gezzemani, l'incontro con Maria e la suggestiva scena della crocifissione quando si tornerà davanti al convento. L'appuntamento è a partire domani dalle 20.30. L'Avis e l'Istituto Scolastico Capriglione hanno promosso la festa della primavera Santa Croce di Magliano. Bambini in festa, piantati per l'occasione 25 tigli nella villa comunale. C'era per noi Andrea Nasillo. Un evento che segna l'inizio della primavera Santa Croce di Magliano promosso dall'Avis e dalla Scuola Capriglione. Piantati 25 tigli forniti dall'azienda regionale per lo sviluppo agricolo. 25 piante ognuna per ogni candelina spinta dall'Avis locale. L'ambiente in primo piano, rispetto del territorio e delle sue risorse naturali. Sono intervenuti Antonio Mancini, referente Plastic Free, l'ornitologo Nicolano Rante, i docenti Domenico Tartaglia e Gianmarco Cappiello. Sono molto soddisfatto perché la partecipazione dei ragazzi delle scuole e qui prendo lo spunto per ringraziare il dirigente scolastico e tutti gli insegnanti perché si è visto una partecipazione e una interazione con i ragazzi che veramente è stata bellissima. Il consiglio che si può dare ai ragazzi ma in generale ai cittadini è quello di vedere le piante non solo come magari complementi di arredo o come oggetti di arredo urbano o domestico ma di avere un occhio appunto di meraviglia anche dato che hanno i loro sensi, dato che interagiscono con altri esseri viventi. Entusiasti i bambini preparati dalla maestra Maria Perrotta che hanno letto una poesia di Pietro Mastrangelo, artista santacrocese, presenti in diverse associazioni. Un evento ai piedi del grande platano monumentale con i suoi 30 metri di altezza e 160 anni di vita. Rispetto dell'ambiente, controllo del territorio e soprattutto educazione civica perché in questi giorni approfittando appunto delle belle giornate si educano i nostri ragazzi e i nostri studenti appunto al rispetto dell'ambiente che è un bene primario. Prima di chiudere alcuni appuntamenti in programma domani, domattina alle 11 nella chiesa dell'Annunziata di Venafro per la terza stagione dei concerti dell'Orchestra Sinfonica del Molise sarà proposto lo Stabat Mater di Giovanni Pergolesi. Per l'occasione in palcoscenico ci sarà la prolusione dell'architetto Franco Valente. Sempre domani ma alle 19 nella cattedrale di Larino si esibirà il coro polifonico di Montagano diretto da Giuliano Mariano. Saranno eseguiti i brani tradizionali legati ai riti della Settimana Santa ma anche gospel e spiritual e poi altri brani di autori classici da Perosi a Mozart. Con questi appuntamenti si chiude il nostro telegiornale della notte. Io vi ringrazio per averci seguiti e vi auguro una buona nottata. Vi do appuntamento domani. Grazie a tutti.